quest'ordine del giorno votato alla camera? l'ordine del giorno diceva peraltro la camera impegnava il governo a valutare l'opportunità credo che il governo l'abbia già valutata e scartata allora perché votare sì? il governo ha valutato l'opportunità ha valutato vediamo un po se facciamo questa cosa o no il governo credo che a tempo di record l'abbia già fatta la sua valutazione quindi quel si significava valutiamo e poi no perché l'ordine del giorno era formato in questo modo quantomeno non so se c'è stata una modifica cioè impegno il governo a valutare l'opportunità di fare questo e questa e credo che alla valutazione del governo sia molto chiaro quindi voi restate sempre contare il suo problema? ma certo ma certo senta senatore dal momento 5 Stelle dicono sul reddito dei cittadinanza a dare subito risposte a chi ha perso il reddito? abbiamo subito dato risposte molto prima e cioè ci sono 385 mila posti di lavoro in più ci sono delle misure a favore dei redditi bassi c'è una serie di misure che infatti danno questi risultati che favoriscono un'espansione c'è la misura che consente per la formazione delle persone per cui le risposte ci sono già non sono le risposte che avrebbe dato che aveva dato il movimento 5 stelle perché ci sono delle elezioni per cui gli elettori hanno votato un certo programma e attuiamo quel programma